Nel momento in cui in Europa è stata votata una risoluzione e Fratelli Italia ha votato senza un secondo di dubbio, in cui si condannava fascismo, nazismo e comunismo, Fratelli Italia l'ha votata compatta senza un secondo di dubbi, il PD no, e oggi sono a cercare di farci gli esami, quindi non c'è alcun problema, è che non basterà mai, quando noi dicevano perché non è andata il 25 aprile, siamo andati il 25 aprile, ma perché non avete condannato il fascismo, abbiamo condannato il fascismo, perché non avete detto che vi riconoscete nelle svolte di Fini, ci riconosciamo nelle svolte di Fini e di Fiugi, perché non dite che siete antifascisti, ma se anche domani dicessimo siamo antifascisti, direbbero perché non cantate bella ciao, perché non la cantate su una gamba sola, perché non la cantate fischiettando, perché è strumentale, è strumentale tutto questo, e io ti ripeto che noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, perché ci siamo presentati agli italiani e gli italiani ci hanno votato e non spetta al Partito Democratico o ai giornalisti di sinistra dare patenti di legittimità democratica.